Sono amareggiato, deluso, soprattutto dal modo di fare politica da parte di questa maggioranza e soprattutto del mancato rispetto da parte del Presidente del Consiglio verso non solo l'opposizione, ma io penso verso tutti i consiglieri. Io come capogruppo di Fratelli d'Italia rappresento un partito, rappresento un gruppo, ho una dignità, partecipare a una riunione appunto dei capigruppo, proprio specifica, dove si va a organizzare i lavori, le commissioni per i consigli. Qualche giorno fa, già leggevo sulla stampa del Consiglio del 30 dello stadio Bonolis, oggi mi ha dato conferma, quindi è inutile che facciamo queste riunioni per poi programmare i consigli. È una mancanza, ripeto, di rispetto. Parliamo del Consiglio del 30, oggi già 19, e se questa amministrazione si crede che in dieci giorni l'opposizione oppure il gruppo mio che rappresento di Fratelli d'Italia possa votare un provvedimento così importante, parliamo di oltre 5 milioni di euro, in circa 5 milioni di euro, una grande responsabilità, è di base vedere bene i documenti, sviscerarli, vedere se ci sono tutti i pareri, è una questione, non stiamo giocando, qui stiamo facendo politica e stiamo lavorando per far sì che questa convenzione sia al massimo degna di una sorta di transazione. Vedere così buttato, c'è una decisione già presa da parte loro, ha tutti i numeri il Presidente e il Sindaco per votarsela, noi vogliamo approfondire per la tutela di tutti i cittadini terramani. È un pensiero condiviso anche dagli altri gruppi di opposizione? Io non lo so, io rappresento il partito di Fratelli d'Italia, rappresento il gruppo di Fratelli d'Italia a Teramo, noi siamo un partito serio, ci piace fare cose serie e non qui oggi per scherzare o giocare, perché appunto, ripeto, approda in Consiglio Comunale una transazione importante per la città che l'aspetta da diverso tempo, ma soprattutto bisogna anche vedere i conti e bisogna vedere i benefici che il Comune o i cittadini terramani possono avere da questa transazione.